La seconda volta consecutiva La partita è difficile, sicuramente non ci aspettavamo di poter vincere contro Salerno ma di giocare al nostro meglio Il settentere iniziale non ci è stato sicuramente d'aiuto però speriamo di poter fare bene domani per conquistare la terza piazza Sì, sarebbe un risultato storico, è già un risultato storico la semifinale di Coppa Italia Quindi per noi va bene, daremo il meglio domani come abbiamo anche cercato di fare oggi Quindi peccato per il risultato